Ciao ragazzi, qui parla il vostro Loquendo Italia, Onicarga dirsi voglia. Caricherò questo video in più canali possibili per spargere la voce. Quello che sto per dirvi è, oserei dire, vitale per molti canali di diversi di noi. Sono qui per farvi un annuncio importante, quindi quello di oggi non sarà affatto un video divertente. Ciò nonostante vi prego di ascoltare bene le mie parole e non chiudere il video direttamente senza fare nulla, ma se siete degli youtuber come me, seguitelo fino alla fine, e spargete la voce. E se non lo siete, comunque fate vedere questo video a chi può interessare. In questo periodo a molti di noi partners hanno inviato messaggi da parte dei relativi network riguardanti le nuove politiche di YouTube. Tanto per cambiare, la tematica principale è quella del copyright. Sapete benissimo ormai che non è consentito caricare contenuto video e audio su YouTube che non sia di propria produzione. E sapete benissimo che correte lo rischio che il vostro canale venga chiuso se violate queste regole e caricate roba come film, telefilm, musica e persino video di altri utenti. Quello che sta succedendo ora è che il rischio si è allargato, e penso che fra le persone che guarderanno questo video ci saranno moltissimi youtuber let's player eloquendisti, quindi particolarmente è rivolto per chi tratta principalmente la tematica dei videogiochi. Ho ricevuto questa notizia inizialmente da parte di uno youtuber venezuelano che conosco bene, Drossa Rozzank. Conta più di 860.000 iscritti, e le sue parole sono molto attendibili, per poi in seguito ricevere l'avviso da parte del mio network. Ciò che faccio è riferirvelo affinché anche voi siate a conoscenza della situazione. Le nuove norme sono principalmente due. La prima è che adesso è sempre possibile mostrare gameplay e let's play, ma vi conviene togliere la musica di sottofondo del gioco e anche i filmati, visto che da questo momento le compagnie produttrici di videogiochi saranno molto più severe. Vi può sembrare una cazzata, perché far vedere il gameplay vero è proprio e consentito, ma i filmati no. Ve lo spiego, questo è dovuto al fatto che le cutscenes, o filmati a dirsi voglia, vengono ora considerati come contenuto video, vale a dire che dato che il giocatore non ha influenza sulle immagini mostrate, sono facilmente rilevabili e quindi passabili per segnalazione di violazioni copyright. Attualmente non sappiamo quali sono le compagnie che attueranno questa politica alquanto capricciosa oserei dire, ma state comunque attenti. Se mai vedete un vostro video rimosso per questo motivo, togliete immediatamente tutti quegli altri video riguardanti quel gioco stesso, e tutti quelli per così dire, a rischio. Come seconda regola. Non caricate assolutamente trailer di videogiochi. I canali che possono farlo hanno un'autorizzazione speciale, oppure sono channel ufficiali degli sviluppatori. Purtroppo noi utenti ne abbiamo sofferte di tutti i colori da quando siamo qui su YouTube. Persino io ho rischiato di vedermi il canale chiuso diverse volte per motivi futilissimi, ma purtroppo il sito funziona così, YouTube non vuole rischiare di essere denunciato da grandi aziende, e si deve adattare di conseguenza ad attuare queste politiche che definirei a dir poco ridicole. Non voglio che i vostri canali siano vittime di questo sistema, e voglio avvisarvi prima che sia troppo tardi. Bisognerà stare attenti a ciò che caricheremo. In fondo siamo una community, e noi dovremmo aiutarci a vicenda. Cercherò di riferirvi quanto mi è stato detto dal sopracitato Drossa sulle case che sono più tolleranti riguardo queste politiche. Se ne conoscete altre che attuano meno questa tolleranza per gli utenti, vi prego di farcelo sapere, e di spargere la voce per sapere quali sono i giochi su cui fare video e quali da evitare. Per quanto riguarda Sony e Rockstar, le cose vanno alquanto bene. Non mi è parso che si siano riscontrati casi in cui il loro contenuto sia stato spesso segnalato e rimosso. Di quelle che inserirei nella lista nera fa parte Nintendo, che hanno più volte minacciato di rimuovere materiale di utenti che caricano video riguardanti i loro giochi più recenti, mentre si sono dimostrati parecchio tolleranti con i giochi più vecchi. Un'altra che può essere definita rischiosa è Square Enix. Basta sapere che ha denunciato degli utenti che hanno caricato dei video sul loro fangame basato su Chrono Trigger, nonostante questo non fosse stato fatto a scopo di lucro. Per il momento non ho altre informazioni e prego a chiunque ne sappia più di me, di riferirlo in giro e spargere la voce. Condividete il video con più persone che possiate. Il futuro dei nostri canali purtroppo in questo momento, dipende dalle grandi corporazioni videoludiche. Spero che queste informazioni vi siano state utili, colgo l'occasione per salutarvi e darvi i miei auguri per la vostra carriera youtuber. Statemi bene, ciao!